Ah, quella è la linea protetta dedicata a Dark Mayhem. Finalmente ci sta chiamando! Dov'è il pulsante per rispondere? Colosso, dovevi proprio regalarmi questo anello di oro rosa? Sì, simboleggia l'eternità della nostra amicizia. Ah, eccomi. Dark Mayhem. Ma, signore, è un grande onore per me incontrarvi. Oh, davvero? Io non posso dire la stessa cosa, Tandermen teccato. Hai rivelato la sede segreta della Lega dei Cattivi. Sì, devo ammettere che è stato un passo falso nel mio percorso, ma adesso mi sto impegnando al massimo. Sei attaccato a una calamita. Oh, attrae l'oro, tecnicamente. È unica nel suo genere. Tecnicamente sei un'idiota, ma a volte dai prova di avere un bel potenziale, perciò ti darò una seconda possibilità per dimostrare di essere degno della nostra Lega. Davvero? Volevo dire, mi sembra ovvio, perché Max T è un supermalvagio di primissima categoria. Dai, facciamola finita in fretta, Max. Ho un'audizione che... Wow! Sei stato sconfitto da una porta. Devo smetterla di impegnarmi con te. La mia testa sta per essere staccata. Liberami! Va bene, d'accordo. Ti salvo la vita ancora. Non sono io quello che devi salvare stavolta. E da cosa dovrei difendermi, fratellino? Solo dall'unica calamita che attrae l'oro, sorellina. Da wow! Max, qual è il tuo piano? Eliminare questa città, è ovvio. Te l'avevo detto che non era finita. Su, coraggio. È ora di dare il via all'operazione sconfiggi quell'idiota. Posso fondere i cavi della calamita? Fatto. Ora l'unico problema è che si inverta la polarità. Ti ordino di fermarti. Troppo tardi. L'acido nitrico starà già sciogliendo le tubature. Certo, beato te che ci credi. Questo non è acido nitrico, è acido citrico. È semplice succo d'arancia. Cosa? Colosso, com'è possibile? Prova tu a fare acquisti online con le zampe. Evviva! Aranciata gratis per tutti. Sei il nuovo supereroe di Edenville, capitano imbranato. Io voglio distruggere questa città, non fornirle una bevanda vitaminica. Devo fermare il succo. Ho trovato il modo. Max, guarda che se non ripristini l'impianto tutti i tubi esploderanno. Ma come sei drammatica, Phoebe. Forse non hai torto. Bene, per il mio quaderno è sufficiente. Andiamocene prima che scoppi tutto. No, io non mi muovo di qui. Questa è la mia città e devo proteggerla. Non posso andarmene. Perché sono tua sorella. Perché la porta è chiusa. Attenzione, l'impianto cederà tra dieci secondi. Prepararsi all'esplosione. Ci deve essere il modo di spegnerlo prima che scoppi tutto. Dobbiamo ruotare quell'affare. Max, io non ho mani libere. Fallo tu. Sei pigro. Salva la città. Impianto ripristinato. Ce l'hai fatta. Hai salvato Edenville. No, direi che ho salvato te. Quindi adesso siamo pari. D'accordo, va bene. Ehi, dove sarà il succo? Che importanza ha? Mi basta che l'onore della vittoria vada solo a Max! Anche l'onore della sconfitta, a quanto pareva a Max.